C'eravamo incontrati per caso, eppure niente tra noi sembrava casuale. Forse non avevamo nulla da perdere, forse c'eravamo innamorati davvero. Genova era l'unico posto dove non ci sentivamo stranieri. Così quando Paolo ci chiese di restare fino alla fine dell'estate a lavorare per lui, abbiamo accettato subito. Ed è così che ha cominciato a capirci qualcosa. Di musica intendo. Abbiamo visto il nero ieri, in ospedale. L'abbiamo visto. Ci è passato davanti sulla barella. Che facciamo se si sveglia, se parla, se dice a qualcuno quello che è successo? Io ho bisogno di potermi fidare di qualcuno. Questa è una lettera d'amore. Dobbiamo farla sparire. Non è roba nostra. Ma che ti frega di chi è? È dalla testa che te lo devi levare, amore. È dalla testa. Paura che si sveglia, eh? Che parla, eh? Se non lo trovano, questa storia si chiude qua. Non lo trovano, questa storia si chiude qua.